Musica Amici telespettatori, quest'oggi San Giovanni Rotondo è teatro di una pedalata, ma non di una pedalata qualsiasi, di una pedalata che si colora di amore, di solidarietà. Infatti quest'oggi l'ADMO, l'associazione che si occupa della donazione del midollo osseo, ha invitato questi ciclisti che hanno effettuato ben 2000 km che giungono a San Giovanni Rotondo dal Trentino Alto Adige proprio per portare questo messaggio di solidarietà e per sensibilizzare al tema della donazione del midollo. Professoressa, quanto è importante sensibilizzare riguardo al tema della donazione del midollo? Il gruppo di lavoro qui a San Giovanni è nato proprio per quello, per poter sensibilizzare i giovani, ma soprattutto informarli. Spesso confondono il midollo spinale con il midollo osseo e non capiscono l'importanza di donare le cellule staminali e salvare una vita. Queste malattie ematologiche sono sempre più frequenti. Io stessa sono una malata di leucemia che ha fatto il trapianto, quindi mio figlio mi ha donato il midollo perché non siamo riusciti a trovare un donatore. È difficile. Su 100.000 pazienti uno solo è compatibile, quindi è importante informare e sensibilizzare i ragazzi alla donazione, donare vita e anche donare a se stessi. Anche lei quindi si è unita a questo gruppo che ha effettuato questa pedalata a scopo umanitario? Sì, assolutamente. Noi sosteniamo comunque chiunque ci è vicino, chiunque voglia portare il messaggio dell'Admo in giro. Questi ragazzi sono già la seconda edizione di questa pedalata che loro fanno per portare in giro il messaggio dell'Admo. E davvero li ringraziamo perché non è semplice, loro lo fanno veramente solo con lo spirito di solidarietà, solo per portare avanti qualcosa di importante senza chiederci assolutamente nulla. E non è semplice, anche oggi la giornata non è stata proprio delle migliori per loro, hanno incontrato pioggia. Però non si fermano, non si arrendono mai. Quest'anno poi ancora di più hanno voluto fare questo percorso da Carovigno a San Giovanni per andare nell'ospedale pediatrico, qui nel reparto di onquematologia, quindi dove ci sono i bambini affetti da queste gravi malattie, per portare anche oltre ai sorrisi, oltre ad una speranza, anche un contributo che loro hanno raccolto per poter fare, cercare di fare, finanziarlo, poter fare qualcosa in più per regalare qualcosa a questi ragazzi che hanno bisogno comunque di tanto. Ma che venga qui! Che cos'è Admo? Allora l'Admo è un'associazione di volontariato e si interessa della donazione midollo osseo, è una onlus, quindi non ci sono speculazioni, è tutto volontariato. Praticamente questo incontro c'è stato perché ci sono stati alcuni volontari che vogliono donare una quota in denaro all'onquematologia pediatrica, qui a San Giovanni Rotondo. Loro questa pedalata la fanno ogni anno e sono volontari al 100%. Pedalare per Donare, che cos'è questa iniziativa e quali sono le tappe? Allora Pedalare per Donare è un'associazione indipendente trentina, di praticamente otto ciclisti, quattro pugliesi, un padovano e tre trentini. L'obiettivo era quello di unire l'Italia dal nord al sud sotto il segno della solidarietà. Noi pedaliamo, sappiamo pedalare e ci siamo passati l'anno scorso da San Giovanni Rotondo con la nostra pedalata dal Trentino alla Puglia. Ci siamo fermati a San Giovanni Rotondo, abbiamo avuto un'accoglienza dall'Admo di San Giovanni Rotondo e dall'amministrazione comunale incredibile. Ci siamo trovati bene, siamo stati colpiti dall'ospedale e da tutto quello che ci sta attorno. Abbiamo ben pensato di ritornarci con una pedalata da Carovigno a San Giovanni Rotondo e raccogliere e donare un qualcosa, un segno alla nostra presenza. Dottor Cappucci, la professoressa ci spiegava prima quanto è difficile trovare un donatore di midollo? Sì, questo è vero perché all'interno della famiglia solo il 25-30% trova un fratello, una sorella compatibile al 100%. Ecco perché la nascita di questi registri regionali e nazionali, proprio perché le probabilità di trovare un donatore non consanguino variano da 1 a 1 a 1 a 100 mila. Grazie alla nascita di questi registri, tra l'altro in collegamento con oltre 70 registri internazionali, si riesce a coprire circa il 70% di infusione di cellule staminali di donatori. Possiamo trovare un donatore in Germania, in Francia, negli Stati Uniti o al contrario pazienti nostri potrebbero ricevere cellule staminali da donatori non consanguinei. Grazie anche alle nuove tecnologie, grazie anche ai nuovi farmaci, ossia anche ai trapianti, al 50% dei finiti trapianti apolidentici, è possibile coprire fino al 90-95% di trovare un donatore compatibile. Per quanto riguarda la selezione, occorre un'età compresa da 18-35 anni, un peso superiore ai 50 kg ed essere apparentemente in buona salute. I rischi sono tendenti a zero e le modalità di donare le cellule staminali sono una scelta del donatore, o tramite il fattore di crescita oppure con anestesia generale, un'anestesia molto soft che dura circa un'oretta, e quindi prelevare le cellule staminali direttamente le creste elieche, le ossa del bacino. Ecco perché selezionando donatori idonei, giovani, senza patologie particolari, la percentuale di rischio è tendente a zero. Chiaramente, trovata la compatibilità al 100%, si eseguono anche degli esami strumentali e sierologici a favore del donatore e anche dopo la donazione si seguono i donatori fino a un massimo di 10 anni con controlli periodici e questo rende sicura la pratica ed i donatori sono favorevoli a fare questa cosa. Sapendo anche che un paziente, quando la chemioterapia o la radioterapia non funzionano più tanto bene, chiaramente l'unica terapia salva vita è la donazione di cellule staminali. Quindi donare effettivamente donare cellule staminali significa salvare una vita umana, soprattutto in questi pazienti affetti da patologie onco-ematologiche. Il gruppo di lavoro di cui mi occupo io è diretto dal dottor Lazzaro Di Mauro, che è il direttore del Dipartimento di Laboratorio e Medicina Trasfusionale, nonché immunogenetiche e di accadalassemia, serve, fa sì che questo lavoro vada avanti sempre con tecnologie più sofisticate e arruolando, se possibile, sempre più nuovi donatori. Signor Sindaco, un'iniziativa lodevole è quella di oggi, che coadiuva la solidarietà umana con lo sport, con il ciclismo. Beh, devo dire che questi ragazzi, anche più avanti nell'età, hanno fatto tanti e tanti chilometri, un paio di mila chilometri dall'anno scorso a quest'anno, per portare il messaggio della solidarietà e della donazione del midollo osseo. Grazie anche, poi dobbiamo dire, all'intervento della locale associazione, che si sta dando un gran da fare, da fare, per sensibilizzare tutta la nostra popolazione ai temi della donazione del midollo osseo. Quindi, è una bella giornata che coniuga lo sport con i valori della solidarietà e della donazione. Noi che siamo la città dell'accoglienza e della riconciliazione, dobbiamo assolutamente sempre aver di gradimento a queste iniziative, anche perché poi abbiamo questa struttura meravigliosa voluta da San Pio da Pietralcina, che è la casa sollievo della sofferenza, che fa tanto appunto sui temi delle cellule staminali, della donazione, delle nuove tecniche chirurgiche. Quindi, per noi è importante dare questi messaggi.